Fare beneficenza per aiutare i più bisognosi. Una delle tante leggi non scritte della vita viene ancora una volta ribadita dall'oratorio Don Bosco delle Marche, attraverso due eventi natalizi in programma per gli ultimi giorni di dicembre. Uno sguardo verso l'altro che coinvolge numerosi ragazzi e persone di tutta l'età provenienti da Marche Romagna, attraverso il volontariato e l'aiuto rivolto ai più fragili. Dal 26 al 30 dicembre la palestra della parrocchia Cristo Re si travestirà da mercatino dell'usato, frutto di una raccolta porta a porta di vestiti, accessori, elettronica, mobili e tanto altro. Un'iniziativa è diventata ormai un classico del Natale pesarese grazie all'impegno costante sul territorio da parte dell'oratorio Don Bosco dal lontano 2009. Il mercatino ormai è giunto alla sua dodicesima edizione, lo faremo presso la parrocchia di Cristo Re in via alle Cesare Battisti numero 3. Il tema fondamentale sarà quello del riuso e quindi rimettere in circuito materiali che le persone non utilizzano più, andremo con i ragazzi a cercare casa per casa, ma le persone potranno direttamente portarlo creando un circuito virtuoso. Un evento benefico che rappresenta un canale diretto verso le missioni dell'oratorio in America Latina. Il progetto di quest'anno per cui ci hanno chiesto una mano nella missione di Ancagnada è l'ampliamento di una casa del malato già presente che accoglie più di 60 malati di ogni genere e di ogni età, bambini e più grandi, malati con varie problematiche, anche malati terminali. C'è bisogno di un ampliamento perché i posti non bastano più, quindi di una struttura che è solo un piano verrà alzata, fatto un secondo piano per dare l'altra possibilità a 20-30 posti in più. Ci hanno chiesto un aiuto, cerca una cifra di 25-30 mila euro, ecco cerchiamo di fare questa raccolta. L'ampliamento della casa per i malati Madre Teresa del Perù sarà possibile portarlo a termine grazie anche al ricavato del cenone di Capodanno organizzato sempre dall'oratorio Don Bosco presso la palestra di Cristo Re. Al mercatino dell'usato quest'anno la grande novità sarà il cenone di Capodanno che sarà appunto sempre lì nella parrocchia di Cristo Re, bisognerà prenotarsi e anche questo cenone è preparato dai ragazzi, dai giovani, però avrà sempre uno sfondo solidale. per cercare di dare un sostegno concreto alla missione.